La procura nissena ha chiesto quattro condanne all'ergastolo nei confronti degli imputati per l'omicidio del gelese Giuseppe Failla, ucciso a colpi di pistola il 9 ottobre 1989. I quattro imputati in corte d'assise per cui è stato sollecitato il carcere a vita sono il boss Giuseppe P. Dumadonia, di 76 anni, il sancataldese Cataldo Terminio, di 66 anni, il nisseno Angelo Palermo, 65 anni, e il gelese Angelo Bruno Greco, 54 anni. Giuseppe Failla aveva 51 anni quando fu ucciso a colpi di pistola. Era la mattina del 9 ottobre 1989. La vittima si trovava nel suo bar in via Cadorna, a Gela. Il delitto, secondo la ricostruzione della procura, si inserirebbe nella faida tra Cosa Nostra e Stigia che inseguinò il territorio della provincia nissena negli anni 80 e Cataldo Terminio avrebbe ritenuto Failla, considerato affiliato a un clan rivale, responsabile dell'omicidio del padre Niccolò Terminio e voleva vendicarlo. Una volta ottenuto, sempre secondo l'accusa, l'ok di Madonia, Terminio avrebbe chiesto aiuto a Greco, il quale avrebbe sparato i colpi contro la vittima, mentre Angelo Palermo avrebbe fatto da autista. Il corpo di Failla venne trovato da alcuni clienti del bar.